Ringrazio anche per la Verve, che si accompagna a una quantità di investimenti in infrastruttura in tutta Italia, in particolare al centro-sud, che non hanno precedenti nella storia repubblicana. Questi sono i dati. Per quello che riguarda la riduzione in termini contabili e non sostanziali, come avrò modo di spiegare avendo sentiti anche altri ministeri della dotazione del Fondo per la Perequazione Infrastrutturale, tale scelta è stata operata in primo luogo in considerazione del fatto che il relativo iter di assegnazione, diversamente da quanto affermato dagli interroganti, non era affatto definito. Nel merito, è importante evidenziarlo, le risorse del Fondo sono salvaguardate dall'insieme di provvedimenti normativi che il Governo sta portando avanti per superare proprio quel divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, figlio del centralismo e non sicuramente dell'autonomia che ancora non c'è. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata approvato dal Senato prevede infatti esplicitamente la salvaguardia del vincolo di destinazione per le risorse già stanziate in favore di specifici territori. Grazie.